Noi potremmo avere la possibilità di essere i primi, di essere appetibili per i tour operator nazionali e internazionali, per il nostro patrimonio culturale, per i nostri musei, per il nostro mare, per il nostro affaccio sul Mediterraneo. Purtroppo però i tour operator ci snobbano perché purtroppo non possono prendersi la responsabilità di portare masse turistiche sul nostro territorio perché ovviamente farebbero una brutta figura con gli stessi e quindi si screditerebbero come qualità i tour operator se vendessero il nostro territorio come meta turistica. Quindi diciamo che la prima cosa da fare indubbiamente è quella della realizzazione di un progetto urbanistico che metta la città nelle condizioni di diventare un salotto, un biglietto da visita per l'ingresso, per l'ospitalità. Quindi questa è cosa fondamentale.